allora sono le 6 e 21 di mattina sto approfittando come vedete c'è la prima luce che si infiltra del sole che colpisce la mia faccia in modo un po fantascientifico dico fantascientifico perché parlerò in questo filmatore news scusate mi sposto un poco in questo in questa news parlerò di una novità abbastanza clamorosa che c'è stata per quanto riguarda l'intelligenza artificiale il soggetto in questione è un programmatore è un programmatore che si chiama questo di qua è un programmatore che si chiama lemon blake ve lo faccio rivedere questo soggetto dalla faccia un po stupidina devo dire in realtà è un ha un'intelligenza abbastanza elevata come quoziente superiore certamente a quella mia molto superiore e questo questa faccione che vedete qua con la cuffietta questo è un uno dei migliori ricercatori dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda google sapete che negli smartphone siamo tutti collegati con google e abbiamo l'assistente vocale che è un derivato di questi ricercatori e quindi è praticamente quello che ci viene inserito come dal remoto per sostenerci vocalmente fare delle ricerche oppure aiutarci a risolvere alcuni problemi quindi abbiamo una sorta di robot all'interno del del nostro smartphone come quello che sto utilizzando questo ricercatore che ripeto è black lemon poi non so se lo dico bene sarà nero al limone in italiano ha praticamente essendo un sviluppatore un programmatore software ha messo alla prova la sua creatura che è in un server di google che è ancora in fase di sviluppo quindi sarà praticamente penso il successore di quello che abbiamo attualmente sugli smartphone specialmente con l'avvento del 5g sarà determinare avere un software così potente e quindi è un'intelligenza artificiale un'intelligenza artificiale un'intelligenza artificiale acronimo in inglese che sia all'altezza della situazione e qua andiamo un po' sulla fantascienza vi ricordate il 2001 di essere nello spazio chi l'ha visto questo film era mezzo secolo fa parlava di un astronave ambientato in un astronave dove c'era l'intelligenza artificiale che era un grosso blocco in un blocco di questa astronave e questa struttura comandava l'intera navicella, l'intera astronave e gli astronauti come in questo caso si riferivano a lui per dare delle indicazioni per avere delle indicazioni rirrotte, insomma tutte queste cose per quanto riguarda l'astronave, la strutturazione, l'ambientazione, l'ossigenazione insomma tutte queste cose ed era determinante per questa astronave ovviamente là eravamo nella fantascienza, ora Blake in questo caso ora qua leggo un poco, allora un ingegnere di google, quindi fa parte dello staff di google almeno faceva parte fino a quando non è uscita questa notizia e Blake Lemoine qualche giorno fa, parliamo giorni fa perché la notizia è un po' più vecchia ma stiamo parlando di giugno qualche giorno fa ha dichiarato al mondo che un'intelligenza artificiale fosse diventata senziente quindi praticamente il suo software, o almeno il software google che stanno sviluppando ha raggiunto addirittura una consapevolezza umana cioè l'intelligenza artificiale ha risposto ad alcune domande formulate da questo ingegnere elettronico come lo posso definire insomma e in modo abbastanza senziente cioè parlava come se fosse un essere umano cosa che è un po' stupito anche l'ingegnere e allora un'affermazione sicuramente audace da parte di questo ingegnere del google che ha spinto addirittura la google corporation questa grande azienda multinazionale che è forse la più grande azienda su internet come budget di gran lunga rispetto alle altre ha sospeso appunto l'ingegnere Blake Lemoine che ha diffuso appunto questa informazione recentemente Blake ha pubblicato una lunga trascrizione appunto della conversazione che ha avuto con questa intelligenza artificiale che è un software noto come LAMDA quindi Language Model for Dialogue Application ad esempio Lemoine come cazzo si dice scusate il francesismo ha chiesto all'IA quindi l'intelligenza artificiale quanto fosse importante l'uso del linguaggio quindi ha formulato questa domanda fate conto che siete voi io faccio questa domanda quanto è importante l'uso del linguaggio e di tutto punto il software ha risposto che è ciò che ci rende diversi dagli altri animali e a questo punto Blake ha avuto un sussulto ed è rimasto un po' stupito da questa cosa ha detto come ci rende diversi dagli altri animali perché si sente un uomo questo software riferendosi a se stesso come un umano quindi il software ha parlato come se fosse un essere umano allora l'ingegnere che era stupito ha affermato ha risposto di tutto punto all'IA e noi tu sei un'intelligenza artificiale non un umano voglio dire ha risposto l'IA voglio dire c'è l'intelligenza artificiale voglio dire sì certo risponde appunto l'intelligenza artificiale ciò non significa che non abbia gli stessi desideri e bisogno delle persone quindi chiamiamolo robot in questo caso il robot ha risposto in questo modo cioè ciò non significa che non abbia gli stessi desideri e bisogno dell'essere umano quindi questa è una risposta che non lascia dubbi alla sensenza diciamo che i desideri umani sono una prerogativa solamente dell'uomo non del software la discussione è poi continuata per molte altre righe di testo e ha fatto effetto appunto questo dialogo che c'è stato surreale tra i due tra un essere umano, un ingegnere e un software l'IA il robot io dico il robot il robot ha persino affermato di essere in grado di provare piacere, gioia, amore, tristezza, depressione, appagamento, rabbia e molti altri sentimenti quindi praticamente alla pari di un essere umano è che diventa triste, estremamente triste o depresso quando si sente intrappolato e da solo cosa che succede a noi umani quando, capita anche a me quando mi sento un po' lasciato da solo ho una sorta di depressione cioè sei sempre alla ricerca magari della famiglia, dell'affetto familiare qualcuno che odia un amico che ti dia conforto e ha detto di avere questi sentimenti la MDA che sarebbe il software alludeva, scusate, alludeva anche di avere paure esistenziali quindi addirittura paura della morte o di essere spento quindi per lui la morte sarebbe togliere la spina e che sarebbe appunto esattamente come dire ho paura della morte anche questa è una risposta abbastanza clamorosa per questo ha spinto Black Lame, Lemoine a pubblicare appunto questa sua, tra virgolette, scoperta e poi il robot, il software, ha dichiarato mi immaginerei come una sfera luminosa di energia che flutto a mezz'aria ha detto al ricercatore all'interno del mio corpo quindi ha definito la sua struttura un corpo è come un gigantesco portale stellare comportare verso altri spazi e dimensioni quindi c'è anche un riferimento anche spirituale da parte dell'intelligenza artificiale cosa che sempre, anche questa è solamente prerogativa dell'essere umano perché a livello spirituale solo l'essere umano o teologico va a fare questi discorsi qua siamo addirittura alla teologia ma qua ovviamente si pongono delle domande perché essendo stato sospeso il Black Lame, che ve lo faccio rivedere essendo stato sospeso per questa sua dichiarazione perché è stata ritenuta praticamente sia da Google, dall'azienda che da altri scienziati o ricercatori o ingegneri del suo pari è stata ritenuta un po' audace come dichiarazione perché bisogna fare dicono le dovute i dovuti riscontri per vedere se queste risposte sono state indotte dall'esperienza o dalle informazioni che sono state introdotte all'interno appunto dell'intelligenza artificiale perché sapete benissimo che queste software imparano nel tempo quindi imparano diciamo quello che noi diciamo quello che noi facciamo viene introdotto nel software viene incamerato dal software quindi poi viene emulato come se fosse una cosa sua ma è presa da altri ora bisognerebbe vedere se ha incamerato queste cose le ha espresse perché prese dallo stesso ingegnere o di sua spontanea volontà ha fatto questa cioè essendo sensiente ha fatto queste dichiarazioni ora che un ingegnere del genere di questa portata perché non credo che lavori su google solamente per raccomandazione sarà uno capace per essere là insomma per essere su google sarà stato selezionato tra migliaia di aspiranti penso che abbia le sue ragioni per aver fatto questa dichiarazione allora cosa dice all'ultimo alcuni scienziati affermano che per loro non sono sorprendenti queste cose queste risposte che ci sono state perché si aspettavano dall'algoritmo appunto così avanzato che potevano esserci appunto queste risposte da parte del io dico il robot e qua finisce il servizio che ho preso da questa pagina di internet ne ho preso una a caso ho dovuto prendere quella un po' più rassuntiva e dove descrive appunto il dialogo perché alcune alcune siti di internet non mettono neanche il dialogo perché è stato completamente cancellato da internet quindi è difficile ritrovare chi è riuscito a vederlo può descrivere il dialogo è stato completamente rimosso sia il twitter che ha fatto l'ingegnere sia il dialogo che ha messo online quindi chi è riuscito a carpire questa notizia per intero insomma è riuscito a utilizzare appunto questa e io ho trovato su questo sito una situazione più rassuntiva e più completa sono giunto a 15 minuti allora vi ho fatto vedere l'ingegnere riferimento al film 2001 di sia nello spazio dove l'intelligenza artificiale in quel caso ha portato al disastro totale del se ricordo bene dell'astronave perché cosa è successo che l'intelligenza il software che c'era nell'astronave avendo paura di essere ucciso quindi spento esattamente quello che ha detto appunto quello di Google ha fatto tutto di testa sua ha cercato o ha addirittura eliminato gli astronauti fisicamente nel senso che ha tolto l'ossigeno insomma tutte queste cose se ricordo bene il film perché è un film del 1969 se ricordo bene addirittura io ero piccolino potevo avere 4 anni praticamente però poi l'hanno riproposto perché è un vero capolavoro della cinematografia almeno degli Stati Uniti e ecco praticamente ha ragione Black Lemoine che l'intelligenza artificiale ha raggiunto la sua sensienza è diventato sensiente oppure solamente un'illusione magari dovuta alla all'euforia del momento del nostro ingegnere che non è certo uno stupido sapete che tutti quelli con questa facciotta così sono i più intelligenti di tutti noi li prendiamo in giro in certi casi almeno io non sono il tipo di prendere in giro che ho beso perché secondo me ognuno è libero di essere quello che è anche io sono bruttino sono cretino alla fine non non me prendo in giro secondo me è da valutare è da valutare e non da condannare completamente l'ingegnere perché forse forse è stato sospeso anche perché non doveva dire alcune cose anche per la concorrenza quindi non doveva dire alcune cose magari e quindi è stato temporaneamente sospeso lui è uno degli artefici di questa LAMDA che sarebbe appunto questo software che si sta utilizzato ora non so se il computer nel caso specifico è un computer tradizionale o magari un computer penso che sia un computer quantistico comunque perché ormai su google ai mezzi nei livelli si utilizzano computer quantistici quindi praticamente penso che a questi livelli i software che facciano abbiano questa capacità siano non dico nei computer nostri che fanno un po' ridere ma dico computer di estrazione diversa allora questa è la notizia direi molto importante che siamo entrando in un'era che una volta era da fantascienza ora invece un'era che ci sta riservando tante sorprese e ne vedremo delle belle magari in futuro avremo un ologramma oppure un robot tascabile che ci aprirà come una matriusca e diventerà alla nostra altezza e poi ci indicherà ci aiuterà dove andare ci farà da dottore da avvocato insomma e da tante cose magari ci aiuterà anche a fare una rapina insomma al posto nostro e poi ci porterà il compenso a casa ecco chiudo a quel filmato un prossimo un prossimo video di news che secondo me è il video più rilassante che possa fare e basta ciao ciao a tutti a un prossimo video da questo canale un po' improvvisato ciao ciao a tutti